Eneb è lo sponsor di questo video, un marketplace dove è possibile acquistare le proprie case di gioco sia su pc che su console oppure anche degli abbonamenti o programmi per pc e credit in game. Eneb è uno store in espansione che al momento conta almeno 10.000 prodotti digitali in vendita, è molto affidabile, ha uno score di 4 stelle e mezzo su 5 su Trustpilot ed è anche partner di importanti brand dell'industria videoludica come ad esempio Konami e ha anche un live support service che è attivo 24 ore su 24 e serve appunto per risolvere rapidamente eventuali problematiche. All'interno dello store troverete diverse offerte che si aggiornano nel tempo e prezzi scontati però è possibile andare a inserire il codice sconto di Armax al momento dell'acquisto per avere un ulteriore sconto. Se siete interessati a dargli un'occhiata tutti i link del caso li trovate in descrizione. Ti è proibito rivelare la tua vera natura a coloro che non sono del nostro sangue. Farlo equivale a rinunciare al tuo diritto di essere del sangue. Il tuo dominio concerne solo te stesso, tutti ti devono rispetto quando si trovano nel tuo dominio e nessuno può mettere in discussione la tua parola nel tuo dominio. Ti è proibito creare una progenie senza il permesso dei tuoi anziani. Se disobbedirai, tu e la tua progenie sarete condannati a morte. Tutti coloro che creerai saranno tuoi figli. Fintanto che non li avrai presentati, ne sarai solo responsabile. Le loro colpe saranno le tue. Rispetta il dominio degli altri. Quando arrivi in un dominio estraneo, presentati sempre a quelli che governa su di esso. Fintanto che egli non ti accetta, tu non sei nulla. Ti è proibito distruggere un tuo confratello. Il diritto di distruzione non appartiene che ai tuoi anziani. Solo i più anziani possono richiedere una caccia di sangue. Queste sono alcune delle regole contenute all'interno della Masquerade. Immagino ragazzi che la maggior parte di voi non conosca che cos'è, perché è una roba molto nerd in ambito GDR. Comunque che cos'è la Masquerade è un regolamento di gioco. Anzi è uno dei migliori regolamenti di gioco che vinse l'Origins Award negli anni 90 per giochi di ruolo. È un mondo, basato sull'esistenza dei vampiri in contrapposizione agli umani e anche in contrapposizione tra loro stessi, si svolge in un mondo parallelo, identico al nostro, dove esistono diversi clan di vampiri, ognuno con le sue abilità, particolarità, così come la sua maledizione. Su questo universo si sono basati numerosi giochi di ruolo, libri, videogiochi e film. E tanto per farvi un esempio semplice, pensate al Signore degli Anelli. È come se tutto quello che voi sapete sul Signore degli Anelli fosse una serie di manuali che descrivono i luoghi, l'ambientazione, le razze, i loro poteri e le principali vicende storiche. Poi su quell'ambientazione sarebbe possibile raccontare un'infinità di storie, trasportandole quindi in libri, in videogiochi, in film, eccetera. Ed è quindi quello che si fa con la Masquerade, l'ambientazione più dettagliata e complessa creata per il mondo dei vampiri. Tra l'altro esiste anche la Werewolf, che crea un mondo simile per i Mannari. Non so se qualcuno di voi ha visto il film Underworld, giusto per fare un esempio, mainstream. Ecco, quelli si basano sulla Masquerade e sulla Werewolf. Ora che abbiamo un'infarinatura di base, è uscito in early access Vampire Hunt, che è un Battle Royale basato su questo universo. Ne sembrava strano che prima o poi non ci cascassero anche loro. Così come gli altri Battle Royale, ho deciso di provare anche questo per vedere com'era. se non altro io apprezzo tantissimo questa ambientazione. È un Battle Royale molto particolare, anzitutto perché è in terza persona con tutti i pro e i contro del caso. È estremamente veloce, le partite dall'inizio alla fine durano poco, direi 15 massimo 20 minuti. Il ritmo partita è anche molto molto veloce, il sistema di movement non ha quasi limiti, ci si può arrampicare sui palazzi, non si ha il danno da caduta. E ogni clan di vampiri ha le sue abilità speciali, che spaziano dal poter diventare un'ombra per scappare, eseguire supersalti, mandare pipistrelli in ricognizione, che sostanzialmente farebbe quello che fa un Nucav su Battlefield, giusto per capirci, e quant'altro. Il sistema di lutto poi è immediato, non si perde particolare tempo per cercare armi perché si trovano subito, e ci sono specifici spot nella mappa che offrono per l'appunto armi di livello superiore, armature e vita. Essendo in un universo vampirico, ovviamente la vita non poteva altro che essere sangue, e infatti è possibile anche succhiare il sangue degli umani che si trovano per strada, per curarsi, oltre ad aumentare le statistiche delle abilità del nostro personaggio, succhiando sangue di alcuni esseri umani che sono divisi per colore, e che aumentano ognuno in una statistica diversa. Per il resto, la regola è semplice, come in qualsiasi battle royale, rimanere l'ultima in vita. Si può giocare da soli o in team da tre, essendo una battle royale ha i suoi fan e i suoi detrattori a prescindere, proprio per il semplice fatto che è una battle royale. Per quanto mi riguarda la ritengo abbastanza divertente per come è strutturata, non sono un tipo da battle royale, quindi alla fine non penso che ci giocherò granché, però come ho fatto per le altre, ho voluto provare anche questa. Il gioco comunque è gratuito, contiene anche il battle pass da 10 euro, che se comprato permette di sbloccare alcuni elementi cosmetici extra, per personalizzare sostanzialmente i vampiri. Considerando che i clan della Masquerid sono 13 o 14, se non sbaglio, c'è comunque spazio per future espansioni del gioco con nuovi personaggi, e l'ambientazione in cui si svolge è praga di notte. Vi lascerò qua sotto comunque un articolo relativo all'universo della Masquerid, che parla dei clan e delle loro particolarità, nonché poi c'è la pagina di Wikipedia che spiega in maniera molto esaustiva tutto l'universo della Masquerid, che è molto grande. Per tutte le informazioni, quindi in linea generale relative a blodante al gioco, ve lo date, chiaramente non è una recensione di tutte le meccaniche, è giusto un primo sguardo. Quella che state vedendo in sottofondo è comunque una partita giocata in modalità singola, che è andata molto bene, molto frenetica all'inizio, e molto più tattica verso la fine, quando eravamo rimasti ormai pochi. Vi lascio finire di vedere il game senza che ci parli sopra, così che magari diventa un pochettino più immersivo da quel punto di vista, lo vedete come gira, come è anche a livello di suoni. E per il resto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!